Si raccusa ex albergo scuola dopo difformità lavori si avviano modifiche strutturali. Proseguono i lavori dell'ex albergo scuola di Corso Umberto che in estate entreranno in una delle fasi più interessanti dal punto di vista della realizzazione tecnica, ovvero il taglio degli attuali pilastri con l'inserimento di speciali isolatori sismici che daranno maggiore stabilità a fabbricato in caso di terremoto, garantendo anche la sicurezza degli stabili limitrofi. Si tratta di una fase complessa che arriva dopo un rallentamento subito a causa delle diverse difformità che la direzione lavori, l'impresa appaltatrice e l'equip che ha realizzato la progettazione hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi mesi riguardanti sia la fondazione che lo smaltimento di alcuni rifiuti speciali rinvenuti all'interno dello stabile. Sono state inoltre affrontate delle tematiche connesse con la presenza di fabbricati limitrofi i cui proprietari sono stati coinvolti nella gestione del cantiere per non cagionare danno a terza e poter effettuare correttamente le opere di adeguamento sismico ed efficientemente energetico del fabbricato. Attualmente è in fase di avvio l'attività di demolizione dei solai e di alcune parti strutturali. Grazie.